Si voleva creare l'uomo del futuro, l'uomo nuovo, un uomo che non poteva pensare e sentire così con il sentimentalismo paternalistico e repressivo che c'era stato finora. Sfaccettato e camaleontico, critico d'arte, psicologo sperimentale, fondatore della teoria eventualista. Sergio Lombardo, protagonista alla Galleria di Piazza San Francesco, con la mostra Sergio Lombardo, una programmatica differenza a cura di Moira Chieverini e Simone Zacchini. C'era una visione molto ristretta, questa visione era completamente scandalizzata rispetto alle nostre attività che invece erano già sull'azione, sul rapporto col pubblico e soprattutto attraverso la stimolazione del pubblico a reazioni, non tanto di coinvolgimento amichevole, quanto proprio di provocazione a fare o ad agire esteticamente. L'esposizione ripercorre la lunga carriera di uno dei protagonisti centrali, sia come artista che come teorico, dell'avanguardia italiana degli ultimi 60 anni. Oggi le problematiche sembrano essere quelle dell'intelligenza artificiale, della scienza che io avevo già proposto fin dagli anni 50, alla fine degli anni 50 quando ho cominciato, perché volevo fare un'arte scientifica. Quindi nel futuro dovranno creare una nuova estetica, che non può essere semplicemente l'uso dell'intelligenza artificiale, ci vuole la creatività umana e la grande apertura mentale, ma soprattutto i maestri. L'esposizione, ospitata sino al prossimo 2 giugno, rientra nell'ambito del progetto Galleria Aperta, organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dall'Associazione Culturale Le Nuove Stanze Magonza, col patrocinio del Ministero della Cultura. Dimostra che a volte il ruolo del pubblico è supportare il privato e dargli quel quantum che manca per fare un ottimo lavoro.